No, non si ritraggono convinti. Mi trasmette un cattivo... come si dice. No, non si ritraggono convinti. 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 Ti avevo chiesto di pagare! Ma perché fai così? Non può pagarmi da mondo. Tranquil... Era comunque un essere inutile. Non volevo che si impiccasse da solo prima di dargli un'ultima lezione. Per i denti di Rork. Dovrei dormire di più. Per i denti di Rork. 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 Dovrò camminare.